Venerdì 27 maggio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa che apriamo con i numeri diramati dall'ASREM sul fronte contagi da coronavirus, un bollettino che non conta nuovi decessi ma c'è un ricovero a fronte anche di una dimissione paziente di Boiano e Poggio Sannita, 15 i degenti in contrada Tappino, 162 invece nuovi casi, 22 positivi al tampone molecolare, 140 all'antigenico su 931 esami processati il tasso di positività si afferma al 17,4%, 129 i guariti, 3.964 i molisani attualmente positivi e adesso leggiamo i quotidiani, partiamo dal locale primo piano Molise, si parla di politica e di regionali 2023 passo di lato della Fanelli, coalizione ampia e ambizioni personali da parte, la consigliera ribadisce la centralità del Partito Democratico nelle scelte e dice ma i ruoli li decideranno insieme i partiti, giochiamo di squadra per costruire con i 5 Stelle prosegue la capogruppo Dem con 5 Stelle sinistra e moderati, possiamo dare una speranza al Molise proprio sul punto vediamo all'interno l'intervista completa a Micaela Fanelli intervistata per primo piano da Rita Iacobucci Fanelli sceglie il gioco di squadra e molisani interessa il futuro, il PD centrale in una coalizione che può vincere ora serve unità però su come si formerà la coalizione del centro-sinistra la rappresentante del PD ha le idee chiare, confermo che il perimetro non può comprendere chi ha governato con Toma per noi bocciare il suo bilancio, significa che chi l'ha votato come proposta di giunta non può essere alleato con noi. Poi sulle alleanze ancora il PD è sicuramente centrale in una coalizione che deve mettere insieme i 5 Stelle la sinistra e i moderati dice la Fanelli vediamo adesso gli altri titoli di primo piano Molise che mette in risalto anche ciò che sta accadendo a Termoli sul punto nascita, è pronto il piano per le partorienti, il punto nascita alle ore contate la mancanza di alternative per le future mamme aveva indotto i giudici del Tarra a revocare la chiusura l'ASREM ha provveduto niente più parti al Santimoteo e poi all'interno Fresilia, Terzo Lotto, Definanziato, Greco, Mossa pre-elettorale. Vediamo il punto a firma dell'onorevole Aldo Patriciello che ricorda demita, demita leader intellettuale di una politica che non c'è più, l'ex politico è deceduto all'età di 94 anni, il bollettino 162 contagi, 129 guariti, fermo a 15 il totale dei ricoverati, mentre ancora all'interno Venafro, Ecocentro, Ricci sdrammatizza, Zullo, grande occasione persa, Boiano cronaca la minaccia, la picchia e le sequestra il telefonino, ora non potrà più avvicinarsi alla sua ex, mentre a Termoli Toma si rivolge agli armatori, caro Gasolio, ho portato il caso in commissione, agricoltura e pesca. Vediamo adesso lo sport, lo sport con il calcio di Serie C, Lupi, nuovo mister presso l'annuncio, Tencorang vicino alla Cremonese, eccellenza, Lisernia vuole la Serie D, il presidente Traisci, ci proveremo fino alla fine, motori, è tutto pronto per la 29esima edizione del Memorial Gianluca Battistini. Vediamo adesso i quotidiani nazionali e partiamo dal Corriere della Sera, che apre con la telefonata di Draghi al Cremlino, Draghi non vedo spiragli di pace, il premier telefona a Putin, ho chiesto lo sblocco sul grano, la replica, togliere le sanzioni, lo zar continueremo a dare gas a Roma e attacca l'America, nessun gendarme ci fermerà, fornitura in tanto accordo tra Italia e Algeria. L'avanzata dei russi, i giorni più duri per Kiev, Mosca in cento, pronti a lasciare la rivolta dei diplomatici. Vediamo un po' ancora sul Corriere della Sera, ci spostiamo nell'immagine centrale, eolie, incendio, devasta, stromboli, è nato sul set della fiction, dicono dall'isola ha distrutta metà della vegetazione, la RAI risponde, nessuna responsabilità, le fiamme hanno bruciato 6 ettari di macchia mediterranea, il sindaco di Lipari, non c'è più un filo d'erba, le fiamme forze partite dal set di una fiction sulla protezione civile, la RAI dice, noi non siamo responsabili. Trovata intanto l'intesa sui balneari e delega fiscale, il rinvio invece sui ristori. Vediamo adesso la Repubblica che apre con la politica e con i sondaggi che vedono Fratelli d'Italia in testa a spese degli alleati, referendum, intanto c'è il rischio quorum. Secondo l'indagine Demos, Meloni prosegue la sua crescita con il 22,3%, seguita dal Partito Democratico al 21%, mentre Lega e Forza Italia scendono, il Premier e il suo Governo mantengono un gradimento elevato, 63%. Patto, Letta, Conte, primarie per i candidati comuni in Sicilia. Nel taglio alto invece il focus su ciò che sta accadendo in Ucraina e i rapporti tra Italia e Mosca, Draghi ho chiesto a Putin lo sblocco del grano, telefonata al Cremlino, Mosca continuerà a fornirci il gas, intanto le immagini centrali, le milizie popolari filorusse distruggono le aree fortificate ucraine. Vediamo adesso i titoli del quotidiano romano, il messaggero ancora riporta appunto il contatto che è avvenuto tra il Premier italiano e Putin, Draghi a Putin, sblocca i porti, il Premier chiama il Cremlino, pochi spiragli per la pace, lo zar, basta, sanzioni. Italia e Algeria accordo sulle infrastrutture, è un caso l'aumento in bolletta per il gas. Intanto l'indagine del messaggero, i giovani in fuga dall'impiego statale, lasciano il posto con corsi flop, allarme di Giovannini al nord, non troviamo specializzati. Proprio su questa questione l'articolo di Paolo Balduzzi, settori in crisi, se il lavoro stabile non è più un obiettivo. Immagine centrale invece è dedicata alla festa che è avvenuta nella capitale per celebrare la Conference League dei Giallorossi, 100 mila voci. Grazie Roma. Vediamo adesso il tempo, il tempo che apre con le dinamiche interne alla politica nazionale, i provvedimenti presi da Mario Draghi. Il governo riparte, è tornato super Mario, dalle spiagge al Catasto fino alla deloga fiscale. Il Premier vince su tutto dopo settimane di polemiche, i partiti restano in silenzio. Parla solo la Meloni, unico rammarico, non è riuscito a convincere Putin ad accettare la pace. E l'immagine centrale, vediamo, Conte a Somma, PD e 5 Stelle, Avversari e Mastella si schiera con i grillini. Vediamo adesso i titoli del Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano che invece apre su un'inchiesta proprio del giornale sulla scuola e sugli studenti. Ma davvero la scuola sforna solo somari? Un ragazzo su 5 non capisce un testo e il 95% degli aspiranti giudici è respinto. Sono dati veri, si chiede il giornale di Marco Travaglio e poi nel taglio alto Draghi, flop con Putin e rinvio per i balneari. Vediamo i titoli del manifesto. Il manifesto che invece apre con un'immagine di guerra, un'immagine scattata sul fronte ucraino. L'artiglieria spinge l'avanzata russa nel Donbass e anche l'Iman si arrende. Zeresky dice aiuti militari senza restrizione, terra bruciata. Il titolo del manifesto, c'è anche lo spazio per ciò che sta avvenendo in America dopo la strage dei bambini in Texas. La strage dei bambini non cambia il GOP, da Biden nessuna nuova proposta per regolare le armi. È insuperabile lo scoglio del Senato. Vediamo la verità che invece sceglie un'apertura sulle mascherine, sui dati che stanno emergendo in questo periodo. Via le mascherine, giù i contagi, esplode il caso delle reazioni avverse ai vaccini, i numeri che inchiodano il governo. L'articolo di Maurizio Belpietro, cari ipocriti agli italiani, questa guerra non va giù. Intanto proprio sui rapporti con Mosca, Draghi, media per il grano. Ho chiamato Putin, adesso sentirò Zeresky. Vediamo adesso il sole, 24 ore, concorrenza, accordo sulle spiagge, intesa anche sul fisco. Riparte la delega, riforme in arrivo per i balneari indennizi definiti con decreto e patto su catasto e cedolari. Il presidente del Consiglio, soddisfatto in anticipo su molti obiettivi del PNRR. Vediamo all'interno Draghi a Putin, sbloccate il grano, ma la pace è lontana. Mentre l'immagine centrale, il piano di ferrovie dello Stato, investimenti per 190 miliardi, parla Ferraris, dice treni e strade, più connesse col wifi. Vediamo la Gazzetta dello Sport, che invece dedica un'ampia copertina al Milan e a Maldini. È un Milan capolavoro, l'intervista al dirigente rossonero. Io e lo Scudetto, questa è la vittoria delle idee, tre big e possiamo aprire un ciclo. Io e il diamante Leao è incredibile e può migliorare, mi ha sorpreso l'energia di Pioli. Poi sul rinnovo sono in scadenza come Massara e non ci hanno ancora chiamato. All'interno si parla anche di mercato dell'Inter. L'Inter ha l'intesa con Mkhitaryan e chiede tempo a Dybala. Mentre sul fronte bianconero caccia aperta al Vicevlaovic e Muriel la nuova idea. Mentre sul Casanapoli, Napoli offerta per Barak, c'è Ribé Ribis alla Salernitana. Anche sulla Gazzetta, ovviamente, lo spazio, la festa giallorossa. Roma, una festa colossale. Murigno prepara. Colpi Champions, la conferenza esalta anche Falcao che commenta a sorpresa Abram e bravissimo Zaniolo. E adesso leggiamo gli appuntamenti previsti per quest'oggi. Sulla nostra rete alle ore 11, Molise Sport, camminando Molise alle 13, 13.45, Salus TV. L'edizione del telegiornale alle ore 14 con gli aggiornamenti in diretta nell'edizione serale delle 19.30. Questa sera l'appuntamento con Conto alla Rovescia alle ore 21, mentre alle 23 l'ultima edizione del TG News. E con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi. A tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.